Isab Lukoil, presunto allarme e licenziamenti, la Filcten CGL rassicura il territorio. Si apprende con stupore da un articolo emerso in una delle testate giornalistiche nazionali circa il presunto allarme e licenziamenti che dovrebbe interessare il gruppo petrolifero Lukoil di stanza con le proprie raffinerie nel territorio di Priolo, ospitante il conglomerato industriale più grande d'Europa. La Filcten CGL Sicilia e la Filcten CGL Siracusa dichiarano con cauto ottimismo e ragionevole concretezza attestazioni quest'ultima corroborate da un accordo tra parti sociali Lukoil che il temporaneo stato di crisi programmato dall'Isab di proprietà del colosso russo risulta essere legato ad una criticità ben più ampia dettata da una flessione più che negativa del mercato petrolifero mondiale della quale l'azienda in questione risulta essere attrice passiva data l'epocale e in fausta situazione pandemica che ha destabilizzato irreversibilmente tutto lo scibile lavorativo globale non risparmiando a tal destino neppure il comparto oil. L'organizzazione sindacale pertanto risulta essere foriera nel precisare a mero scopo esplicativo cercando di attenuare il presunto depauperamento psicologico post-covid che l'Isab di Lukoil a nostro avviso non intende abbassare il livello occupazionale riferimento al proprio organico aziendale. Tale osservazione deriva dall'accordo congiunto tra le parti stipulato il 25 giugno del 2021 nel quale si evince un chiaro e temporaneo stato di crisi aziendale tuttavia affiancato da strategiche azioni di contenimento come la Cassa Integrazione Guadagni è disposta a rotazione due giorni per il personale turnista e tre per i giornalieri contemplando quindi tre giorni al mese da luglio a settembre cercando di impattare nel minor modo attuabile ed evitando di intaccare le ferie per il personale sociale così da non ledere condizioni contrattuali in maniera incauta. Talle misure sono volte ad arginare momentaneamente lo stato di crisi del settore petrolifero e al contempo con prudente ottimismo auspicare di poter riacquisire una produzione di processi attestabili ai livelli prepandemici in modo da eludere tali misure e poter ritornare ad una positiva stabilità slegata da tali ristettezze economiche. Pertanto si vuole specificare che nessuna delle multinazionali del polo industriale siracusano ha di grado di voler uscire dal territorio. In virtù delle soccitate previsioni la Filtem CGL Sicilia rappresentata dal segretario generale Giacomo Rota di concerto con la Filtem CGL Siracusa preseduta dal segretario generale Fiorenzo Amato rivendica con forza gli investimenti annunciati dall'Ucoil tra cui l'impianto di metanolo, l'impianto di biofuele l'impianto di trattamento rifiuti solidi urbani al fine di avvalorare un clima di positivo sviluppo territoriale contribuendo in tal modo ad accompagnare la provincia siracusana caratterizzata da una forte vocazione industriale verso una riconversione soffragata dalla sostenibilità ambientale dalla decarbonizzazione obiettivi quest'ultimo legati alla riduzione delle emissioni di CO2 da traguardare entro il 2030 per cavalcare tali nuove frontiere della sostenibilità ambientale secondo la sommenzionata organizzazione sindacale occorre superare le logiche del piano nazionale di ripresa e resilienza strumento che il nostro paese ha ritenuto opportuno utilizzare per cambiare la politica energetica ambientale a tal proposito si vuole fare riferimento al protocollo riguardante l'area di crisi industriale complessa nel quale si evince un primo elemento per la riconferma della centralità del polo petrolchimico siracusano e del sistema industriale siciliano nonostante le lacune e le insufficienze l'indotto siracusano formato da aziende metalmeccaniche e del comparto coibenti di ineccepibile caratura possiede maestranze di acclamato valore e l'osservanza degli accordi sanciti risulta essere un importante passo capace di innescare un iter di sviluppo al fine di poter attingere a tutte le possibili misure di sostegno economico e finanziario in aiuto alle aziende insediate non tralasciandone alcuna la Filtan CGL Sicilia e la Filtan CGL Siracusa con tale partecipazione di pensiero concreto rivendicano un serio progetto di rilancio dell'area industriale unendo anche gli accordi di programma necessari e un protocollo di legalità affinché tale occasione possa ritenersi una gaudiosa rinascita per l'intero territorio siracusano